La prima richiesta per acquisire le calcio Catania è quella di Claudio Luca, amministratore unico della Bacco SRL, che in una nota comunica ad avere incaricato lo studio di consulenza Asciuto di inviare allo studio legale dell'avvocato Abramo comunicazione ufficiale di richiesta di inizio delle trattative per l'acquisto delle quote societarie della squadra fondata. Nelle 1946, Catanese classe 1978, Luca ha fondato nel 2006 l'azienda Bacco, che è stata tra gli sponsor del club rossazzurro nella stagione che si è appena conclusa e che negli anni è diventata leader nella produzione e trasformazione dell'epistacchio. Con lui altri imprenditori cittadini facenti parte di una cordata che ha deciso di uscire allo scoperto. Adesso si attende di conoscere i tempi e le condizioni per approfondire la questione che verrà affrontata dalla finaria, la holding che detiene il 95% delle azioni delle calcio Catania. Nella nota non viene citata la struttura di Torre del Grifo, che invece interesserebbe al gruppo che fa capo all'imprenditore messicano Vergara, che tuttavia fino ad oggi non ha smentito né confermato una possibile trattativa. Grazie a tutti.